Amiche e amici di Volonbright, ben ritrovati, siamo sempre qui al convegno giornalismo e disabilità dove è la notizia per il decennale dell'associazione Volonbright. Gli interventi si susseguono numerosi, continuiamo nella nostra giornata, alcuni ospiti hanno già parlato, altri ancora devono parlare. Io ho il piacere di essere in compagnia della dottoressa Nicoletta Bosco, presidentessa del corso di laurea magistrale di sociologia dell'Università di Torino. Buongiorno professoressa, grazie. L'Università ha il convegno di Volonbright, durante il suo intervento e dei relatori che erano con lei si è parlato di narrazione, tra le altre cose, narrazione della disabilità. Le chiederei allora come l'Università può contribuire a una buona, a costruire, se può farlo, una buona narrazione sul tema della disabilità, come può farlo, ecco, se in questi giorni ci riesce. Credo che una buona narrazione sia l'esito di un lavoro collettivo, quindi l'Università può essere un tassello che mette in rete competenze, professionalità, sguardi disciplinari che possono essere molti. Sul tema della disabilità anche le discipline coinvolte sono discipline molto distanti tra loro e realizzare una narrazione comune non è un'impresa semplice, però ci sono, come dire, diverse esperienze che vanno in questa direzione. La narrazione della disabilità e sulla disabilità dell'Università di Torino include anche una crescente presenza di studenti e studentesse con disabilità. E questo è un altro pezzo importante perché la possibilità di scambiare esperienze, quindi di produrre narrazioni articolate, dipende anche dal fatto che studenti e studentesse con le differenze le più varie si incontrano e imparano a interagire gli uni con gli altri e questo sicuramente è in grado di modificare stereotipi, visioni semplificate di che cosa significa vivere una certa condizione piuttosto che un'altra. Sicuramente la sociologia ha un'attitudine specifica perché si interroga sulle condizioni di contesto che rendono più o meno possibile la produzione di narrazioni da punti di vista diversi. Oggi l'Università, la sua persona è qui, secondo lei l'Università riesce a entrare nel network, nella rete, dei temi sociali, in particolare sulla disabilità, che è il tema un po' portante di oggi e cosa significa la presenza dell'Università in questo contesto, in questo convegno? Molti, e io sono tra questi, ritengono che la dimensione teorica debba essere poi coniugata con degli aspetti più pratici, quindi peraltro questa è una missione riconosciuta che l'Università è tenuta a svolgere, si chiama terza missione, cioè il tentativo di riportare dei contenuti, i risultati delle ricerche e di presentarli e di discuterli e poi quindi di misurare un eventuale impatto con i pareri di chi si trova in certe situazioni, vive delle condizioni diverse. E da questo punto di vista, secondo me negli anni sono aumentate le attività di ricerca che coinvolgono non solo la teoria, l'accademia, ma che usano il sapere dell'accademia e producono sapere per l'accademia attraverso le attività che realizzano, quindi credo che questa sia una scommessa su cui merita investire, sicuramente non siamo arrivati ancora da nessuna parte, ma sulle questioni complicate, come dire, il punto finale non esiste per definizione. E invece oggi, ha seguito il convegno, pensa che sia attuale come discussione, l'Università si possa innestare in questo discorso che oggi è stato portato avanti sulla disabilità, giornalismo, narrazioni? Assolutamente sì, mi farebbe piacere che accadesse più frequentemente, la contaminazione tra sguardi, saperi, prospettive, credo che sia il terreno su cui ci dobbiamo muovere. Io ho imparato delle cose, ascoltando gli atleti o chi vive una realtà come quella del mondo paralimpico e credo anche che di queste iniziative di confronto reciproco ne dovremmo organizzare di più, compatibilmente con le nostre energie e sul tema dello sport, ma anche del giornalismo, naturalmente del linguaggio, ci sono esperienze di ricerca interessanti che stanno comunque praticando questa contaminazione tra saperi e sguardi, che è quella che in modo molto apprezzabile voi state portando avanti con l'iniziativa di oggi. Allora, noi ringraziamo la dottoressa Bosco, ci auguriamo che questa contaminazione sia sempre più diffusa e prosegua, quando si può parlare di contaminazione positiva, chiaramente ci siamo. Grazie dottoressa, buona continuazione.